bello a tutti ragazzi qui è Legends Andrea e oggi siamo qua in lobby con un hacker velo Andre? velo? velo? è velo? velo? è un hacker questo come la live di prima è il mio ultimo video da play nel senso che ci mette tanto a caricarsi forse non lo carico nemmeno comunque se ancora non l'aveste fatto io vi ricordo di iscrivervi al canale attivare la campanellina e spaccare il tasto di like in modo a riuscire ad arrivare a più like come su tiktok 820.000 like e 800 follower non è vero ho 26 follower e 500 mi piace vabbè ma faccio schifo come tiktok Andrea non mi uccidere a me non perdono magari tu a volte compondo le scine l'ho trappato? l'ho chiuso oh madaffaca porca troia troia sarebbe la città eh sì no prima che pensano che ho detto una parolaccia ci sto sparando attento Andrea attento attento ti ha ucciso non è vero c'ha anche le macro l'ho vista con Andrea l'ho vista con Andrea ma c'ha le macro ma da che cosa gioca? spiegami un membro del gruppo io ho visto la skin eri tu eri tu aspetta spiegando per il cuvero l'ho vista con i denti entro nel cuore almeno ne potete andare l'hacking e il cuore beh anche io sono forte come lui nell'edita ma io è più forte lo sai che anche io lo so come? veramente dai come? no non è Luke05 non è Luke perché non c'è sto nome di merda no non è che Dio è una merda eh è che Luke è una merda dai zi guarda come si flezza veramente guarda come si flezza veramente guarda lei dite come si flezza si dai è l'edit delle cacche mi farei vedere no no allora veramente è l'edit delle merda cioè se non è delle cacche e mi hai rotto le palle mo eh palla mo puttana si non mi sparare guarda come si edita lui non sa editare so io editare vabbè ma io sono anche freddo quando sono vuoi vedere come editiamo? dimmi chi edita più volante vabbè io così non so editare mi fa male la mano non mi può sparare aia quando sono freddo a me mi fa sempre male la mano aia devo scaldare qui sono spectator e nessuno mi può sparare però io posso sparare edita non sei un spectator guarda nessuno eh no perché perché hai potuto sparare perché là non è spectator oh king muori oh l'ho massato l'ho massato ma che vado la king si era massato no perché è buggato il salto si era buggato no avevi saltato troppo e quindi si è buggato io ne vado beh però io sono più forte cioè lui usa le macro e anche da computer quindi magari è una bot no a parte che sei troppo lontano per le hack dai non ti ho fatto cadere io ti ho fatto cadere lui non è vero è lì tu è proprio nel momento in cui l'ho detto guarda guarda caso che sono caduto guarda chi sa perché perché sono troppo forte smesso il spectator si no non è giusto perché io ho voluto donare la kill ma non puoi più fare il maledetto un po' avevi ragione non ti posso segnalare ragione era no devo uscire no ho uscito è vero è uscito cioè strano che gli hacker si rifiutano di giocare contro dei bot come noi ma perché hai abbandonato anche a te ho sbagliato ho sbagliato non mi sono dimenticata no va bene ho sbagliato io mangio i cracker se ti dicevo non rimasti vuol dire che ho abbandonato gli hacker siamo più forti degli hacker siamo più forti degli hacker quindi siamo dei gombo ma che cazzo vero? vero bro? ma senti stai sentendo ma congè qualcuno che spesa vai 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 io la compro porco schifo è sorpresa Cosa è la mia voce modificata? io ne so fare tre io ne so fare tre voci la mia normale cioè quella quando sta bene quella quando c'ho al di golo che sarebbe questo e quella quando voglio fare il mongolo e diciamo questa ciao ah cioè la mia voce normale no la mia è più bella perché ti credi in mongolo ti devi credere in mongolo per fare sta voce oh prendiamo il camion dopo prendiamo il camion il brutto pezzo di merda come hai usato a furtermi l'arma a 11 anni il primo giorno di scuola media sono andato a fare una mega cagata ho calpestato la merda poi vedo un tizio da uccidere che lui mi uccide porco schifo farisci porco schifo farisci porco schifo no vabbè ho la sanica ho la sanica di benzini tutto a posto mi hanno ucciso semmai a benzinarli a benzinarli ma lo faccio veramente intanto prima stava e li do è un mongolo è un mongolo guarda la mia voce da mongolo sai che non era un rutto? era la voce senti di nuovo no non riesco più non è un rutto eh io riesco veramente ciao vuoi sentire che dico l'alfabeto? no 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 che schifo mo devo ruttare veramente ciao cos'ho detto secondo te? cos'ho detto secondo te? aspetta forse l'ho capito hai detto no ho detto ehi sentire allora devo mettere la lingua tra le labbra io metto la lingua e poi oh che c'ho fatta? sei di nuovo non sono molto esperta a farlo metto la lingua e candelina aspetta hai imparato l'altro giorno andiamo a castello cazzolino no non è vero andiamo a parco pacifico no 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 se mi butto da un balcone mi butto da un balcone andiamo a sepi no te lo scordi io vado a prendere la lamborghini a parco no dai però sepi sepi trovi le armi buone quello è il mio posto fortunato non lo fatevi ma l'hai detto l'altro giorno non sembrava due armi epiche e armi leggerne ma l'hai detto l'altro giorno è tua sorella è a casa con me se volete facendo il magazzino quello che abbiamo togliato porco schifo porco schifo porco schifo cosa c'è? porco schifo ma bravo stupido ma dai ti vengo a prendere faccio carburante e ti vengo a prendere nooo nooo non è così atterrato uno con la lamborghini ci devi credere perché è vero vai faccio benza ho trovato una lamborghini cos'è questo? scappa via non voglio che mi distruggano la macchina ok me la rubino ho trovato una lamborghini mi sa ti vengo incontro mi sa che anche io ce l'ho una lamborghini su e te la prendo questo e te la prendo è questa anche io ce l'ho uguale viola ma non è viola la mia istruttiva è rossa e blu ah guarda si lo so te la fa vedere sempre viola adesso vengo vieni a borgo vieni a borgo c'è gente un botto di gente a borgo si a borgo oddio che trick tanto sono molto più veloce io di te guarda vuoi vedere che arrivo io a siepi no dai sto arrivando io ci vediamo a sabbie no dai il carburante è ridotto mi dici ha poco carburante allora fai benzina eh no non posso perché ma perché me la devi portare di qua che ora inizia da ma pam 117 dove l'ho spedito in inculonia a quanto parli si oh oh poca benzina devo arrivare al benzinaio veloce veloce quel benzinaio lì ah ma sei arrivato da me cioè sei da me oh c'è uno che mi vuole rubare rubare la lamborghini urbare urbare turbare la lamborghini urbare è qua da me è qua da me è qua da me ah no già e non iniziare per favore ha rotto è rotto è rotto fatto la prima grazie che mi dai bacini grazie grazie tanto non te li do anche io porco schifo faresci c'ha il p90 questo 4% di carburante questo c'ha solo il p90 ah no non c'ha solo il p90 perché non mi ha sparato con le altre armi vabbè vengo anche io a fare benzina guarda la mia lamborghini ah qua Zoe Zoe saluta il video faccio benza che poi ricarico la tannica eh c'hai pure la tannica eh sennò che ho pensato non arrivato qua e io faccio la tannica va bene aspetta che apri la porta Zoe aspetta vai di là e non ti dare tannica mia figata è quella sportiva quella per le gare per quello ci hai messo così poco quella per le gare sai che quella raggiunge i 90 senza turbo c'è una macchina c'è una macchina cerchio Andrea c'è una macchina quale? c'è una macchina eccolo no è questo gli buco le gomme no gli esplode la macchina attenzione gli esplode la macchina gli esplode la macchina no 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 la mia la forchina è sportiva no no Andre no parti ti prendo la scheda dove è la scheda ah qua vabbè c'è un'altra io posso prendere quella la no posso io no te lo scordi dai ma quella viola lo so che è più potente in verità vedi che questa va lento lentamente aspetta aspetta mi parcheggio devo parcheggiare non ne ho pompa non posso cioè ne ho poche assalto però non te le posso dare veramente ne ho poche ti posso dare questi e queste assalto giuro che non te ne posso dare ma come li uccidi c'è c'ho cinque kill sì anche io me la devo fare ah comunque ti ho lasciato uno scudone là dentro appena entri dietro la porta raga l'avevo visto tranquilli no ma perché ho preso questo la safe muoviti 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 la safe corri a sabbie via via da sabbie via da sabbie corri che schifo di canzone che stai cantando oh comunque tu hai veramente l'autocul che schifo con la canzone cioè tuo cugino se ti sente ti uccide non è vero se me l'ha detto un altro di nome manuel è perché anche a manuel gli piace ho sbagliato volevo prendere questa si è baggata la macchina si era baggata la macchina guarda qua guarda qua usa il turbo qua c'era un botto di gente prima andrea c'è un tizio con la lamborghini nera lo investo è morto no mi ha fatto volare no lui mi ha fatto volare uccisi ho 7 kill prendi la lamborghini nera te tieni questo e tieni questo no prima io mi devo fare il medikit non hai capito niente dai prenditi il tattico prenditi tutto quello che puoi arrivo 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 ma il tattico verde ce l'ho ah ok io mi prendo la quella azzurra come solita rompi con la viola? no non la rompo aspetta come è la lamborghini nera? c'è un'altra viola qua oh c'è gente c'è gente c'è gente ma sono predoni no è una persona c'è infatti è una persona di che predoni è qua sopra tranquillo lo prendo io da dietro è la dietro è la dietro ketchup vai a prendere la lamborghini viola te e corriamo subito in safe hai matrimonato i cittadini è la è la è qua è qua come non la vedi? è qua è qua Andre te l'ho pingata è in fondo Andre è qua dove ti ho pingato il ping? dove? è là c'è lei davanti no ma non è una lamborghini è questa quella viola la ah lì ma è tutta rotta no non vabbè sali da me Andre per me lo stai facendo apposta porco schifo sali da me ok ah questa qui qui sali da me sali da me ah non la posso guidare non la vedo ma non la posso sali muoviti muoviti sali sono salito e tu vai però eh è che caro non so che io ho vinto di vita quello che ho vinto non so che io ho vinto 90 all'ora io rimango fuori dal finestrino ok guarda mi vedi? si ti vedo si io qua l'ho presa la lamborghini viola quella che ti ho dato a te che drift io c'ho una lamborghini viola oh bro la mia è di portare qui eh si perchè c'è la R da cioè so perchè sta mirando sotto ok ora so oh c'era una c'era una l'ho ucciso l'ho quasi ucciso a terra ho ammazzato un ticchio anch'io ne ho ammazzato uno andrea tieni il tac blu ok grazie aspetta faccio benzino faccio benzo faccio benzo gli sono andato addosso alla macchina gli sono andato no non lo scherzo ma da me no dai no no scherzo e vabbè questo ha 112 di video faccio benzo uh guarda qua guarda cosa nooo non fare lenza no faccio benzo faccio benzo ah ma c'ha la ruota bucata ah c'aveva la ruota bucata fatti un medikit io mi faccio i miei scudoni e ti do uno ci ha rubato la lamborghini sto stronzo chi? uno la serio? è la veramente e ti devi incazzare dov'è? io l'ho fatto esplodere no no non ancora prendiamo la lamborghini prendiamo questo e seguiamolo è rossa è rossa è rossa è rossa è rossa guido io guido io andre guido io anzi no te vai guida 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 vai guida mi seguo lì andreee ho sbagliato scusa vai sali di qua sali di qua no no andreee sali ok ok vai sali sali di qua muoviti è andato verso fattoria è qua sicuramente corri quanta benzina c'ha? mi sa che c'ha una ruota rotta carburante ridotto va va piano va piano c'ha il carburante ridotto prendiamo questa ora guido io guido io cioè guidi te guidi te vai sulla strada magari eh sì ma dove andiamo? ma dove andiamo? scusate vediamo per sé no vai te guida te guida dobbiamo cercare quello con la lamborghini blu no no io voglio sei guarda vai verso tutti lì non dici spari qua fermo fermo stai fermo stai fermo stai fermo l'ho fiorato io preferisco sempre lo scar e il tac no non è vero cioè io preferisco lo scar si ma il tac no a me è piaciuta mi sparano da qua sotto Andre quello vecchio vecchio della season 10 Andre mi ha laserato un tipo anche della season 10 c'è una macchina c'è una macchina mi serve aiuto Andre c'è un camion è il camion non ha una macchina c'è ancora gente non fa il cavolo di camion scendi che bellissimo oi l'ho fatto in shop ha serrato uno ok no mi è andato di più mi è ammattata Andre io mi devo curare mi è chiamato ma cosa che è ammattata le lupa questo ti è curato allora ah spiati le armi di pane ci sono mi te le prendi poi si guarda quali armi avevano wow guarda guarda andrea se mi arriva un tipo ora io son morto ah perchè non c'è il rampino non ho preso il rampino eccolo eccolo ora scappo 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 scappa 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 1v1 siamo 1v1 1v1 stiamo riuscendo a parlare faccio un box 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 BOOOOOM non voglio non vuoi così se si stia andata in tutta la partita vero? pam 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 aspetta aspetta non usci 13 kg no sei uscita una partita è un casino perchè io voglio fare la cosa andrea 13 kg mi dice che il video è il 97% colpi 74 vabbè ragazzi spero tanto che questo video sia piaciuto se ancora non l'aveste fatto io vi ricordo di iscrivervi al canale lasciare like e attivare la campanellina e come dire no ho sbagliato